242esimo anno della Fondazione della Guardia di Finanza. Con noi il colonnello Luigi Macchia, comandante provinciale della finanza di Caltanissetta. Colonnello, lei è già da un anno qui, quindi già può tracciare un bilancio dell'attività svolta finora? Sì, sono estremamente soddisfatto di quanto abbiamo fatto già in questi primi scorci del 2016. È una realtà che dal punto di vista lavorativo offre molto perché abbiamo servizi nelle varie aree di interesse del corpo, dalla polizia giudiziaria alla polizia finanziaria e alla tutela della spesa pubblica. Non dimentichiamo l'operazione per la nera. Si è indagato sui pubblici uffici, sul cimitero, un'operazione molto importante per la città? Sì, sicuramente. Un'operazione che va nell'indirizzo, già tracciato anche dai miei predecessori, quello di reprimere e contrastare con il sapiente supporto e direzione dell'autorità giudiziaria, tutti i fenomeni corruttivi e concursivi che vengono posti in essere nella circostazione. Tante sono state anche le operazioni per quanto riguarda il lavoro nero nelle varie aziende della provincia e anche per quanto riguarda gli ambulanti. Sì, è vero. Questi sono servizi che noi facciamo periodicamente e che facciamo in particolar modo per ribadire che la legalità deve essere affermata a 360 gradi e non solo nei confronti di quelli che possono essere considerati reati maggiormente pericolosi da un punto di vista sociale. Continuerete quindi a puntare la vostra attenzione su questi settori o c'è qualche altra cosa? No, noi continueremo a puntare l'attenzione su questi settori che poi sono sia quella della spesa pubblica, sia quella delle entrate che della criminalità organizzata.